Io da questo sveggio mi aspetto di, prima di tutto, di divertirmi tantissimo, poi di dare una svolta al mio lavoro che ultimamente mi sta molto stretto e poi mi piacerebbe, non lo posso negare, il mio sogno di andare in televisione. Mi vedrò sicuramente diverso e con delle idee in più e con degli stimoli molto importanti per il mio lavoro. È certo che voglio venire sempre a posto. Com'è andato? Benissimo, ho divertito tantissimo. Ero molto teso ma poi ci sono lasciato andare, ho lasciato scorrere la mia professionalità, il mio voglio di lavorare e sono andato fuori per quello che ho fatto. Sono molto contento e adesso stasera mi diverto anch'io come tutti gli altri. Forse vado a vedere dove è la discoteca, ho sempre comprato bene, lì, ho letto presto e sveglia presto. Ho dato 110%, altro non potevo fare, preparando la linea comunque agli ultimi perché io la modella non ho appartenuto, l'ho conosciuta due sere fa e questa sera ho visto la seconda volta e ho improvvisato proprio. E le cose fatte in progetto sono quelle che vengono meglio. È da pazzi, da panico. Lavoro bellissimo, entusiasmante ma comunque non è una settimana di vacanze, è una settimana comunque impegnativa.